Aveva 10 grammi di cocaina in tasca ed ha provato a tentare la fuga per sottrarsi agli agenti di polizia che lo avevano fermato per un controllo. Il giovane Nisseno, 27enne, è arrestato dagli agenti della squadra mobile di Caltanissetta. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine perché lo scorso anno era stato arrestato sempre per reati sugli stupefacenti. Così quando i poliziotti hanno intimato l'alt, l'uomo che era la guida della sua vettura si è fermato e una volta sceso dall'auto avrebbe finto un malore. Poi, dopo aver opposto resistenza e spintonato la gente che lo stava sorreggendo, ha inutilmente tentato la fuga. Raggiunto e bloccato dai poliziotti è stato poi perquisito. Gli sono stati ritrovati 10 grammi di cocaina in tasca. Visti i precedenti e la reazione del giovane, i poliziotti hanno poi effettuato un'ulteriore perquisizione a casa del 27enne che abita con i genitori. Qui gli investigatori della sezione narcotici hanno trovato e sequestrato 15 grammi di marijuana nascosti in un barattolo. La perquisizione ha avuto seguito anche nella casa in campagna del 27enne ed in uno stanzino sono stati ritrovati altri 500 grammi di marijuana. Il giovane vista la resistenza agli agenti e il quantitativo di stupefacente sequestrato è stato condotto al proprio domicilio come disposto dal pubblico ministero della procura della Repubblica di Caltanissetta. Poi è arrivata ieri la decisione del GIP che ha convalidato l'arresto e che ha deciso di applicare i domiciliari.